Con l'Alexio Magistralis di Romano Prodi, ex Presidente della Commissione Europea e già Presidente del Consiglio dei Ministri, si è concluso il 25 novembre al Campus Luigi Einaudi il progetto Region Europe, realizzato dal Dipartimento di Culture, Politiche e Società dell'Università di Torino. All'iniziativa ha partecipato la Vice Presidente dell'Assemblea Legislativa Piemontese, delegata alla Consulta Europea del Consiglio Regionale, partners del progetto.